Un comune e 21 frazioni nelle quali risiedono oltre 3.000 cittadini. Il centro montano di Torni in parte è stato il più grande, tra quelli dell'Aquilano, chiamato alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale. Una tornata che ha visto trionfare con oltre il 60% delle preferenze Giacomo Carnicelli, con 1.122 voti davanti alla lista che vedeva candidato Domenico De Paulis, fermo al 34% e al sindaco uscente, Umberto Gian Maria, che non ha raggiunto neanche il 5%. Un segnale netto che ha premiato la lista civica per cui però si è speso e molto anche il Partito Democratico che torna a governare a Torni in parte. Torni in parte cambia pagina, cambia pagina con un grande consenso popolare dato a una grande aggregazione civica e adesso dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare. I primi obiettivi? Dove deve cambiare il Comune? Beh, i primi obiettivi sono che è stato un po' il leitmotiv della campagna elettorale, è stato ripartire dalla ordinaria amministrazione, quindi dai servizi primari, che devono essere condivisi per tutti e poi accelerare quanto più possibile l'attuazione del piano di ricostruzione. E il consenso, ampio che ha premato il neosindaco, è testimoniato dagli attestati di stima che lo stesso primo cittadino ha ricevuto questa mattina nella piazza del Paese, dove tutti si sono detti soddisfatti per l'esito elettorale. Sono soddisfatto maggiormente perché questa è l'unica volta che si sta dimostrando di avere un grande cambiamento intorno in parte, perché in tutte le liste presenti ci sono giovani. Anche quelli che adesso si ritrovano nelle liste perdenti, non è detto che domani non possiamo tutti insieme ritrovarci uniti per portare innanzi questo nostro territorio. Perché? Perché conoscendo chi è, l'ho visto da bambino, da piccolo, ero sicura. Negli ultimi cinque anni qui si è avvissuto un clima un po' particolare, un clima di disgregazione, un clima di abbandono. Quindi io spero molto in questa compagine di giovani, anche nel rapporto che hanno con il sociale, anche perché il candidato sindaco proviene dal sociale, proviene dalla Prologo, proviene dalle altre associazioni. Quindi credo che insieme alle associazioni si possa costruire un futuro diverso per tornare in parte.